Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Aplugtail Requiem Questo è il mio secondo episodio e siamo nel terzo capitolo Esattamente, non perdiamo tempo Io vi ricordo che sono Blastrosphere e vi ricordo che potete lasciare un bel mi piace al video Commentare e facciarmi sapere cosa ne pensate di Aplugtail Requiem o anche il suo prequel In un senso, e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti Ora stiamo andando a recuperare della Dulcamara, un erba da un erborista all'altro capo della città Per riuscire a curare Hugo dopo che abbiamo trovato il maestro Anche se sembra che non stia raggiunto molto bene la cura e i trattamenti che quel maestro gli sta facendo Che possiamo fare con il sogno, Amicia? Solo... Stai a curare di lui, per favore Stai a curare, ma non è ancora sufficiente Qualcuno ha la gogna, l'avete visto? Tutti sono andati Ehi Devo seguire te io, eh? Penso che è qui Non credo che hanno bloccato l'accesso all'arena Cosa sta succedendo? Allora Non lo so 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 E' pieno di tochi infestanti All'arena Mi sembra anche normale che abbiano vietato l'accesso, no? Allora Sei pronta? Sì Sì Andiamo E' il vicino di Bfocused Sì E' il distrito 분ica Ok, siamo usciti dalla città Ok Qui c'è qualcosa Ho trovato qualcosina Dei rottavi Che ci serviranno per immagino Forgiare qualcosa, costruire qualcosa Proseguiamo Non posso andare più veloce di così Ti sto provando Davvero? 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 Non è buono Questo distritto è ora fermato Per l'autorità del Count Victor di Arles Per la sua propria sicurezza Non provate a entrare Davvero? Davvero? No, Zuko non può aspettare Potrebbe essere un'altra via in Diciamo cosa sta succedendo! I miei figli sono in là! Non lo sapevo che qualcosa sta succedendo! Che stai scendendo da noi? La gente morirà? Dove vuoi andare? Ehi, c'è un'altra via in là Che pensi? Vedete un'altra via in? Aspettate Ma che bravo Il nostro Lucas Vai Nel primo capitolo Solamente per avere Per essere entrati Nella proprietà privata di qualcuno Stavamo per essere ammazzati Non lo rifarei Però loro l'hanno rifatta E via No, no, no Non è che questa ragazza Finisce sempre nella merda Nelle foglie Nelle budella Oh, non lo capisco Sempre C'è scorma chi? C'è scorma chi? Via Oh, Lord Mi ha ruvinato gli stivali Eh, mi spiace Prendiamo i vasetti Sono molto utili Questo tutto il paese È solo Bate Oh, altre casse Possiamo rubare Chiara un po' di roba Ok Solfo e alcol Per adesso Possiamo fare solo l'Ignis Vediamo anche dei rottami Va bene C'è un carto In la via Abbiamo di continuare Sì No 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 Non loro Non loro Siamo in un po' di rinno Sì Lo sapessi Sono già spiegato Ora dovremo andare a passare Sì 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 Accendere un po' di fuochi eh Che ne dite Come c'è ancora gente dentro 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 Devo fare Devo fare Devo fare il vaso Per forza Devo tirare il vaso Con l'Ignis Vai Così possiamo passare Ecco qua Sono venuti per la carne Allora perché noi andiamo dove c'è proprio la carne Siamo stupide Ok Può passare qui dentro No Oh Ehi 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 They want that hanging carcass right? Of course they do Of course they do Vai Andiamoli la carcassa They can't reach it That bag It's like the ones in the cart Try hitting them with your sling What's that powder? Salt, Peter It normally preserves meat But it's thick enough to choke the flames Good to know Ok This is more salt, Peter, right? Yes A lot of it If the people outside knew what's happening They have family here Children There's no way the army can hide that It's gonna be chaos, Lucas Yes Lord, it's infested Paul Let's leave now Oh For light Townsfolk I guess I have only the other left No A cosa serve prendere questo sonnico? That's close enough Come, don't stay there Wait, I'm taking some This stuff is too useful Bravo, prendilo un po' It's all yours now I have it Stay back Ok Vai Nothing done Vai, andate a mangiare la carne To pastri Ah, ne volete anche un po' voi Vai Prendete questa That's it Let's keep going Sì, well done Vai I really hope we find our herbalist in this mess He's outside the city, right? So maybe he's safe Ok, buono Altri oggetti qui Questo gioco è fondamentale esplorare, eh Se voi andate avanti senza esplorare Vi trovate senza oggetti È un casino Non so se sia effettivamente possibile andare avanti senza oggetti Però È sempre meglio averne un po' Di scorta 3 more down here They didn't let go easily Oh no A soldier Hey What are you doing here? We're Just crossing No one gets out Those are the orders Wait No You should be dead He's going to throw Amicia Ok, non so come abbia fatto di chitarlo That was so close You just Kill the soldier of the army of Provence I know Why did he attack us? Non so perché c'è da attaccare Cioè i soldati qui attaccano I ragazzi che vedono in giro Ma è casissimo Look They're killing townsfolk They're... They're purging the district now They're purging the district now Careful Let me go Let me go Let me go Let me go You won't go further God damn bite us kill faster than us He'll execute us on sight It's us or them now You go go Wait We need that night chain box I guess you're right Listen You can use that salt picture against them Take this to grass and extinguish Ok It should be enough to put out that torch Extinguish All right Are you ready? Let's get an extinguish Let's go Done Now that you've done that torch To... I know I know I know Let's go Colpo preso. Potrei entrare qui? Vedete c'è qualcosa da prendere? Vedi? C'è qualcosa da prendere, però non posso andarci, soffi mi mangerebbero viva. Cosa c'è? Facciate che nessuno li va! Ehm, guarda, un altro! Ehm, dovremmo fare un altro... S**t, non posso capire per aprire queste porte che conoscevo che era in là. Lettiamo! Oh, vai! Oh, vai! Oh, vai! Oh, vai! Ok, tiriamole un altro. Ricordate di registrare le porte che hai lavato con una crossa! È imperativo che i bambini sia fuori dalla città! Sì, prendi i bambini fuori. I bambini si seguono. Come si può essere così stupi? Allora, qui possiamo fare... Non posso colpire quella cosa là dentro, è vero o no? Eh, intanto se gli spengo la torcia lui... In realtà non cambia nulla. Passamolo da qui. Non avevo visto che si doveva passare qua. Continuiamo al bastoncino. Siamo qui dentro. Allora, la città! Siamo qui dentro! Allora, che cosa Amicia? Un conto di un'islanda? Un sogno che ha avuto per le settimane! Non posso passare qui fuori Ok proviamoci Ah non accendo nulla qui Ma non mi vede? Oddio, guarda troppo dove sono Ma che si fa qua? Ma stavo per contraattaccare E perchè non posso controllare? Devo fare questo io Ecco fatto, crepa Da sotto però c'era qualcosa che non ho potuto prendere Mannaggia me Ho preso dello zolfo Ah beh giustamente ora iniziano anche a droppare i nemici Andiamo qui in questo Zolfo e alcol Ok Accendiamo un po' Facciamo un po' di casino va? Accendiamo Via Cosa abbiamo qui? Un botto di roba qua? Un botto di roba qua? Ok Anche questo c'era nel gioco precedente Mentre di qua non si può andare, giusto? Non so Lo seguiamo Solti Solti No Ho già dato il bambino di potere Nel bambino Il bambino? Stai proprio qui Stai qui L'uomo è un uomo di guerra Due torcce Il tuo lavoro Una nuova di extinguisce Solti Solti Una nuova di extinguisce Ok Può cambiare l'extinguish Come un vasetto Proverete Una nuova di extinguisce Vai Poverete Non so No 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 Dall'altra parte tu, bravo, e via. Oh, siamo avanti a un problema. Che? Non c'è un problema per questo, quindi dovremo correre. E' tutto, scusate il mio avvento. Vai, vai, è venuto. E andiamo, più rapido. Sto dietro a te. Ok, ce l'hai fatta tu. Oh, bravo. Oh, mother said the herbalist lives at the edge of a forest. We should be close. It's so quiet. It feels of. There were people here not too long ago. No blood. No sign of a fight. Guardiamoci in giro se sono magari decollezionabili o cose di questo tipo. Someone used that forge recently. Hey, there's a workbench here. You can improve your gear with it. Sì. You should take a look right now. We don't know what awaits us. You're right. Vediamoci i nostri attrezzi e potenziamoci. Now I can use that tool that I found. Allora, vediamo un po'. Fionda. Ammorbidendo le corde, Amissa fa meno rumore quando usa la fionda. Ok, alchimia. Cucine nuove tasche sul suo equipaggiamento. Permette alla missia di trasportare munizioni alchemiche aggiuntive. Ok. Equipaggiamento. Un nuovo anello sulla sua cintura consente alla missia di trasportare un vasetto aggiuntivo. Questo non è male. E attrezzi. Un attrezzo di recupero è utile per fare rottami di vasetti. Coltello, pirite ed ardi quando la missia esaurisce lo spazio a disposizione. Ah. Allora. Questi sono i miglioramenti, ok. Per adesso credo che non avremo mai dei problemi di spazio. Quindi le tasche le lasciamo. Anche il vasetto, va bene. Tanto le continueremo ad usare. E un attrezzo di recupero potrebbe essere utile magari più avanti. Quindi potenziamo la fionda per ora. Ok. Toppa doppia. Aggiungendo una seconda toppa alla fionda, la missia può tirare una seconda volta prima di ricaricare. Questa è molto utile. Ciò può aiutare. Ok. Ogni tanto ha dei cali di frame. Però vi ricordo che io sto registrando anche. Quindi il computer è sottoposto in uno sforzo maggiore. Oh, che cosa c'è? Rottami? Sì. Cosa serviranno i rottami? Non si sa per ora. Esploriamo qui intorno. Nada. Andiamo da questa parte. No, nemmeno di qui. Oddio, dove stiamo andare? Di là? Qui dentro? Hop. Di qua? Eh, mi sa di sì. Da questa parte. Ah no, nemmeno di qui. Ok, è strano. Posso passare di qui? No. Ah, forse qui? Dove scavalcare in qualche modo? No, nemmeno. Dove devo andare? Scusate. Ho fatto quello che dovevo fare là, al tavolo del lavoro. Siamo arrivati qui? E poi? Posso guidare in qui dietro o no? È un passaggio che non sto vedendo, sicuro. in qualche posto in cui devo andare. Ah, guarda. Là? Qualcosa da prendere là dentro. Dovrò riuscire ad entrare qui, allora. Però qui non si entra. Ah, guarda lì. Aspetta. Dammi la fionda con il sasso. Ecco, appunto. Vediamo cosa è in là. Un graffo. Alla prossima a una casa. Vengono mantenere i loro morti a vicino. Io posso capire quello. Non abbiamo mai burrito il padre. È a casa. E quella pazza, Amicia. Tu sei certo. Vengono tornati. Ok. Ah, quindi non si andava avanti da qui? Mannaggia, no. Speravo si andasse avanti. Perché si è abbassata a caso? Non hanno comuto il pussante. Cerchiamo un altro posto dove passare, eh. Boh, non si va nemmeno di qui. Molto strano. Così stare tornando indietro, quindi non ha molto senso quello che sto facendo. Però nel fronte è... Non può salire qui? Oppa. Qui dentro davvero c'era solo... La tomba? Un po' strana. Molto strano. Qui c'è che è? Ecco. Sì, andiamo. Oh, c'è un corpo qui. Le ratze? No. Stabbi. Probabilmente soldati. Pugnalato dei soldati. Che brutta fine. Qui dietro, con l'esternabili, no? Niente. Dai, capiamo. Come on. Sono qui. Sono qui anche. Ho detto. Niente cazzo può stoppare. Sono queste cacassi. Sì. Stanno seguendo il sangue. Ma... Non lo so dove il sangue stoppia. Ok. Allora. Craftiamo un po' di roba. Uno. Due. Tre. Ok. Tanto come dicevo. Ora. Li usiamo. No, perché sta al nitro? Vai, Ignifer. Via. Poi, andiamo un po' avanti. Qui si può entrare. E direi che qui entriamo. Vai. Allora, fionda. Allora, fionda. Non ho aspettato quello. Oh, quel f***o bambino. Sono sicuro che non siamo stati con loro. Questo deve finire. Vediamoci gli oggettini. Il vasetto è sempre comodo. Bastoncino. Vai. E dove cambiamo? Andiamo qui. Andiamo qui. Allora. Allora, potremmo aspettare che siano vicini per tirare un extinguish con il vasetto e farli fare tutti insieme. Vediamo, eh. Teniamo il vasetto per ora. Però si separano in realtà loro, quindi no. Usiamo la fionda. Ok, i ratti stanno andando da lui. Buono. Poi. Quella cesta là è off-limits. Pensava di sì. Nel fondo ci sono altri guerrieri. In cui potremmo andare? La vedo qualcosa da spostare, volendo magari un carro, però ci sono i topastri. Quindi no, lì però possiamo accendere qualcosa. Vai. Ecco. Entriamo qui. Ah, guarda là. Ci sono dei nemici. Però qui possiamo ripornirci. D'annitro. Ottimo. Ecco qua, usiamo il vasetto con extinguish. Ma vorrei tirarlo senza dirlo. No, ma dai! Ma scusami. Ma si è buggato. Guarda, ma non va. Ma scusami. Ah, perché l'ho tirato con la mano. Ma come l'ho tirato con la mano? Ma ho equipaggiato il vaso. Dov'è che tu puoi uscire? Eh, infatti, ora va. Non credo che puoi uscire. E' che tu puoi uscire. Ma come l'ho tirato con la mano? E' che tu puoi uscire? E' che tu puoi uscire? Ma che tu puoi uscire? E' che tu puoi uscire? E' che tu puoi uscire? Doviamo rifare tutto Perfetto Siamo qui Ok Guardate come doveva andare Se il gioco non mi avesse selezionato la mano Finalmente a caso Sun Nitro Vaso Vedete che avevo selezionato il vaso Ecco E poi Tac E addio Vedete Semplice Ecco fatto E possiamo passare di qui Poi Ehi ehi calmi eh Calmi topastre Mi sa che mi serve riaccendere quel foto Perché sta al litro Perché sono stupido Ecco perché Questa volta è errore mio Ok Poi Sasso Va Andate i topastri Buono E siamo arrivati qui Poi a te tirerei un'altra bombetta al Sun Nitro Vai Che arriva là Mi sa che non ci arriva Siamo troppo lontani Ah topi come saltano Sti infami Però se lui non si gira E posso arrivare lì E accendere Il fuocherello Vai Accendiamo il fuoco Andiamoci così Lui a quanto pare Non si gira Quindi non possono arrivare tranquillamente qui E accendere il fuoco Ecco qua Puoi entrare qui in casa Rifornirci Spero Un po' di cose Niente davvero Ah ecco Buono Buono Anche qui Ci possiamo solamente mettere sotto Poi là c'è una cassa Io direi a questo punto di eliminare quel tipo Di qua si può uscire Si potrebbe uscire Se non ci fosse un esercito di Topastri Ok Usiamo Il vasetto E Vai Buono Eliminato E poi possiamo Ah ma che stupido Potevo lanciare la fionda lì E non usare il sanito mio Ok Devo capire che posso fare questa cosa In realtà Si avrebbe potuto colpire lì Il sanito E avrebbe spento Lui le torce Da solo Vabbè però Lui c'è morto Questo è quello che conta Ok proseguiamo Siamo di qui Ehi Non ho sentito Ok Pionda Vai Extinguish Sto 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 Devo iniziare ad essere più A usare meglio le mie risorse Sicuramente Vai Questo è sicuro Non posso sprecarle così Quello là in fondo Non penso che mi veda Ok Ci sono le bastoncine qui in giro No no Sì 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 Assapattiamo che arrivino Che vuoi 20 Voglio aiutarti? Ah! Sei già morto! Non lo so, 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 non lo so. E io mi chiedo, guarda che tu ti muoviere. L'ha matato! Io... Io non so cosa fare! Tu, Neil, se vuoi un'altra aiuta da me, dog! Ora ti hai perso la linea! Ho stato attaccato! Ho fatto! Ok! Ma la nightshade, Lucas... È finito! Non ancora. Sento cosa sembra. Possiamo ancora farlo. Solo per farlo, non lo so. Ho cercato di correre, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Ho trovato un modo per prendermi le mie lecce sui tu! Allora, facciamo un altro Ignis. Così possiamo prenderci l'alcol. Guardalo lì. Non può fare niente. Peccato che noi non possiamo andare là a prendere un bel po' di risorse. Peccato davvero. Ehi, 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 calmi voi, eh. Calmi, topastri. Io come faccio ad andare avanti? Non ne bastoncini in giro? No. Dove per forza usare il vaso? Eh, non ho più il vaso, tra l'altro. Quindi, e ora come faccio qua? Devo tornare indietro? Qua posso andare, vengo, eh. Qua posso mettere, posso mettere mano all'Ignis e accendere questa cosa qui. Non so bene per quale motivo, però lo faccio. Serve a niente, stanno qua. Anche questa forza potrei accendere la volevo, ma anche quella non serve a molto. Hmm. Sono bloccato? D'altronde non posso passare. Qualcosa mi dice che sono bloccato? Posso prendere il... Il drop, eh? Posso prenderlo? No, non posso prenderlo, ok. Ok, volevo provarci. Tanto mi sa che ero un po' bloccato. Tanto mi sa che ero un po' bloccato. Il rinando mi fa ripartire. Da qui. Ok. Allora, accendiamo. Questa. Come prima cosa. E uno. Poi, a te invece, ti tiro giù. Ma semplicemente con... Il sasso. Ecco. Poi. Proseguiamo. Prendiamo un po' di ingredienti. E uno. Prendiamo un po' di ingredienti. Prendiamo un po' di ingredienti. Cosa. Cosa. L'erbolista è fatto comunque, non restiamo qui. La nightshade, Lucas, è finito. Oh, ma ancora? Lo so cosa sembra. Possiamo ancora fare questo. Solo bisogna trovare l'erbolista. Solo controlli te stesso. Tu non lo farai fare in questo stato. Sto cercando, ma questi ucchi rendono solo a te che succederanno peggiori. Quindi l'erbolista muore comunque. Ok, allora lo facciamo passare. Prendiamo gli oggettini qui. Traffiamo altra roba. Tutto fatto. Ok, tu passi, vai pure. E noi possiamo andare avanti, però. A questo punto, no? Se solo avessi un altro vaso, mannaggia me. Non posso accendere nulla? Non posso usare nulla qua. Mi sembra davvero strano, però. Roshik. Sono bene. Si passa. Non posso. Io non posso andare a prendere... Forse devo andare addirittura a prendere un bastone da dietro. E portarlo fino qui. E a rifare tutto il giro al contrario. Lui mi vede ora. E invece no. Che non mi vede ora. Non posso... Non posso salgirlo da dietro? Non c'è nessuno. 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 Non lo so! Vabbè! Penso che è tutto! Vabbè, vabbè! Non lo so! Possiamo accendere questa E possiamo passare O che non c'è più quel tipo lì qui ad attenderci E qui dentro possiamo rifornirci un po' Buono Abbiamo anche il bastoncino Un nitro pure qui dentro, ok? Quindi dovevamo... Cioè un attrezzo pure qui dentro Quindi dovevamo per forza venirci Ok, e da qua adesso possiamo arrivare di là Grazie al bastone Possiamo arrivare là Anche se non so quanto serve arrivare là Quanto serve arrivare lì? C'è qualcosa da accendere là? Non mi sembra di vedere qualcosa che posso accendere io Dovevamo andare ad arrivare direttamente in fondo? Non so se se è possibile Però roba da accendere io non la vedo Nemmeno altri posti in cui... Ah, eccolo tu vedi, quello Perfetto Non in maniera troppo agile o facile Non è dato che sono morto quante tre volte Però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta Andiamo avanti Certamente fa ridere che questi personaggi si muovono sempre solo di notte Però proprio quando sanno che i topi sono in giro E' vero, io li ho ammazzati tutti E' vero, io li ho ammazzati tutti Non c'è bambini qui No Oh, Lord Focuse Focuse Ehi, siamo qui ora E' bene No No Non posso tirarlo giù quello in qualche modo? Davvero? No Devo salire con questa sorta di scaletta ma non penso, no Appunto Qui è morto qualcuno Ah, la moglie dell'erbolista Oh, no Brastis Era gentile E' quella che avevamo conosciuto al mercato lei, no? Dov'è? Ah, ok, da qui riesco a prenderlo Ok Hmm Ah, questo è collezionabile Oh, una buona planta Molto utile Sì La mia madre aveva dato qualcosa quando avevamo cacchio Da quando era una delle pezze che potrebbero succedere con noi Ok, mi sembra che dobbiamo proseguire Andando nel laghetto Ma adesso escono... Escono un botto di topo e moriamo Ma a che provo a fare tutta questa cosa? Ah, nessuno immagino Perché qui non c'è niente Dobbiamo cercare meglio Qui Zero Va bene, ragazzi C'è con quanto sia lenta però Nello stagno Ah, però ci sono degli altri vasetti da tirare giù Tiriamo giù loro Non posso usare la fionda se sono nello stagno Va bene? Dai, esci? Brava Non posso usare la fionda, ma scusami Non posso più usare la fionda Ma è un bug Ma è un bug O lui ha trovato qualcosa No, non hai trovato niente tu Aspetta qui? No O questo sarò Non c'è niente Non c'è niente Ah, non c'è niente qui, Lucas Lo so Vediamo 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 La casa Sì, deve essere là Ok, dovremmo per forza controllare tutti i posti in cui non c'era il fiore Non c'è niente Vediamo Pagiano? Mi ha chiesto... Mi ha chiesto... I know... Listen... I'm going to seize tutto... We've got to get the nightshade before they do... I have to... No... You're in no state to do this... I'm going... I'll sneak in... I can do it... If anything... I will run... It's not my first time... What is wrong with me? No... 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 Attention... We just got a loot her over there... There may be others... Search the area and kill on sight... Understood... Spread out men... Be careful... Stupid... Why did you let him go by himself? Stop... Stop being weak... Stop being scared... Go... Go get him back... No more holding back... Save... Whatever it takes... Lucas... He's alive... Ah... Bastard... When I get to you... You can't... Aspetta... In Amen... Che pflege... Aspetta... Quello di magari si gira... E... appunto... Ok... A che voglio... Dove... Devo... A prendere questa cesta... Aspetta... Che lui magari si gira... E' appunto.... Ok... Dove... 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 Ok... Mi vede? Ah, quello mi vedeva. Eh, girati. Se ne sta arrivando uno là. Perfetto. Non posso però passare di niente. Ah, qui però c'è un vasetto. Ok, devo prenderlo il vasetto. Allora, per salire però è un po' difficile. Magari riesco a farlo meglio dall'altra parte. Ecco, mi sta vedendo però. Ora mi vede, ora si dirà. Vediamo. Oh, potrei guardare l'interno qua. La passiamo di qui. Non c'è niente qui. Ok. Dobbiamo iniziare a guardare qui. Non riesco a salire da qua, beh, no? Non c'è modo di salire. C'è solo quella scaletta là. Sorvegliata da lui. Può te gire, eh? Sì, si gira. Però passa di lì. Buono. Allora posso andare qui. E di nuovo mi vede quel tipo, eh? Quanto deve essere scassa cazzo. Ok. Deve essere scopassati qui. Magari distraendoli. Questa area è sicura. Ok, posso provare. Sapete cosa? Così. Lui là dovrebbe vedermi. C'è l'albero in mezzo. Ok. Ma visto comunque ma le taglie. Andiamo qui dietro. E andare in questo cespuglio qui, davanti a me, per poi andare subito lì sulle scalette. E fare il meno strada possibile, perché fare tutta la strada da là sarebbe stato un po' difficile. E adesso facciamo passare lui. Via. Andiamo. Qualcuno mi vede? Ma qualcuno a vedermi da là? A me manco lo riesco a vedere, lui mi vede. Va bene. E posso passare qui sopra. Ok. Appena lui si gira magari non facciamo lo sento del sonato, eh. Tirati. Bravo. E se qualcuno che sta controllando qui? No, perfetto, vai. Saliamo. Ok. Muoviamoci in questa zona. Scusate là, Lucas. Sono qui. Scusate là. Scusate là. Scusate là. Scusate là. Che non c'è niente qui in giro. Cosa? Davvero? Andiamo qui sotto. Ok. Mi sembra strano che posso vedermi da lì. Cioè, va bene tutto, però. Ok. Lui mi vede. Però ora posso fare il giro da qui, no? Non dovrebbe vedermi. Esattamente. Vorrei riuscire ad arrivare dove c'è Lucas. Qui dentro. Ah, lui stava controllando lì sotto. Guarda, bastardo. Scusate, stai vivo, scusate. Ok. Questa volta non avevo ucciso nessuno. Bene, è anche più semplice. Chi è con te? Ah! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Did they hurt you? How? Survive. Thanks. This one landers lesson. Mangy dogs. Hey, forget about him. I found the night sheep. We have to go now. I heard shout in the bar! They're coming. Go hide. I'll handle them. No. We got what we need. Let's leave now. No, they'll come after us. And I'm done running away. Man down! We've got an intruder here! Alert! That's it. Come. I'm right here. No! There you go! What is happening? See, they're nothing! Nothing to be scared of! I miss you, what are you doing? We have to go! No! I'm tired of being afraid. I'll show them that it's over! For you! Come. I'll give you what you want. He has a shield. Careful! Intruder here! She's armed! Shoot the bags, Misha. It'll blind them. Huff! I've got a shield. Ho capito Che cosa devo fare? Dov'r ridire il colpo più su wallia. Vai. Ma perchè non lo colpisci io? Oh Bravo Che pa More Oh yes, come then Show me how you'll do it That's all you've got Come on You have to die here Bro, you're just scared You have to try fear into them Yes, follow me Come talk Stop her She's just a kid playing a cronus Yeah, just a kid that killed you Patience, they'll be your turn soon In there, or in our place Yes, come, come try Look, this is how it works now I set the rules Enough He's always on us in our hands No, it's in mine now You're dead You're gonna have dead No, come on Come on Come on Come on Come on Come on Ah, non li ammazzano sul posto, e hanno trucidato un esercito di soldati, e li hanno buttati solamente in prigione. Non aspettate di perdere un'esercito dopo quello che hai fatto. Abbiamo pagato l'esercizio per spendere un po' di tempo con te, prima che ti stai. Tu dovresti sentire. Oh, è tutto che hai bisogno di dire? Voi, tu puoi fare meglio di questo. Tu hai un garrisono qui, non ti puoi farlo? Stop! Non! Vedete la situazione che siamo in? C'erremmo proprio per uscire. Cosa crede che Hugo si sente senza loro? Cosa sentirà quando la mia amica è stata... Ho fatto un erro, certo? Non lo so, cosa sta succedendo a me, Lucas. Ho sentito la mia mente. Sì, perché questo mondo è dolore. E lo stia dolore. E ti vogliono dolore. Ma è una combina che non puoi, Amicia. Non ci sono loro. Non ci sono loro. Ci sono la rune. Hey! Il gallo è quasi pronto! Preparare le condimenti! Ci sono noi. Ecco. Questa cosa funziona con il fogo. Ok, continuiamo. Ok, continuiamo. Questa è la mia. Voi! Come! L'abbiamo alla fine! Voi! 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 Non lo scopriamo. Hai salvato la nostra pelle qui sotto là. Sì, sì. Onde sei ora? Deve essere una scoperta. O... una piazza. Si trasforma una piazza, Lucas. Non c'è la scoperta. Oh! Oh, che è alto! È sicuro? Sì, certo. Come. Penso... È l'unica scoperta da qui. Stai giocando? Devo mettere a giro con lui? Devo... No? Si è buggato? Che palese, no? Che dovremmo andare di qui. Ma perché non... Non si attiva l'interazione? Si è buggato? Per me si è buggato. Let's go! Vai! Buggatissimo, mi sa. Buggatissimo, ricarico l'ultimo checkpoint. Vai, che comincia sezione. La piazza è qui, Lucas. No, no. Siamo in casa. Non ci siamo ancora in casa. Non ci sono scoperta. Non ci sono scoperta, Lucas. Cosa? Oh, oh, oh! Lord, questo è alto! È sicuro? Sì, certo. Sì, iniziamo. Sì, iniziamo. Vabbè. Oggi. Oh no, questo non è sicuro a tutto. Sshh, calma, subito. Vieni. Penso che sia il solo passaggio fuori da qui. Stai giocando? No. Scusate alla palla. Oh, per favore, per favore. Tu puoi farlo. Scusate di portarti questo. Questo è il mio culo. Scusate... Non lo so adesso. C'è un'altra palla, quasi là. Scusate. 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 Oh, Dio. Non posso fare niente. Scusate. Ah, non potevo. Ma dai, penso sempre di poter riprendere da dietro. E invece mai. C'è una cosa stranissima. Forse solamente quando ha la fionda posso prenderli, allora. Però boh, c'è... Oh, Dio. Non posso fare niente. E' noi. Ah, ma... Noi scendiamo. Noi scendiamo. Scusate al depo fast. La ragazza deve essere sbagliata in breve. Ci sarà abbastanza una città. E' un'altra guardia. Un'altra guardia. Oh, non si muove. Ma c'è un foglio. Hai ancora alcune delle tue... Superfazio. Sì. Passiamo. Ok. Ah, sì che sta bene, Hugo. Ok, di qua. Si va avanti. Di qua? Qualcosa? Ok, niente. Ah, mi hanno... Mi ha sentito lui per il tuo corso. Va bene. Ok, qui ci abbiamo. Noi, ci abbiamo. E' un po' non tempo. Non anche se, ci stagiai. Biasi? Di a un po' di che, Quì. C'è? A un po' non c'è... No. Di passaggio... Per un po' di più. E' un po' di più. Un po' di più. Dio. C'è un po' di più. Tornata. Non posso dormire con tutto ciò che sta succedendo. Bene, stiamo facendo! Siamo tutti! Altre guardie. Quella giù. Dobbiamo trovare un po' subito. Non aspettare per tornare a casa. La madre sarà così fredda. Lascio tutti subito. Non pensi di questo ora. Qui, un po' subito. Oh, Lucas. Credo che abbiamo trovato questo depo. Sì, sei certo. Certo. Quindi significa che la nightshade dovrebbe essere qui. E la mia sling, anche. Ok, guarda la nightshade. Guarda la mia sling. Potremmo necessarla. Certo. Nightshade. Ho spero che sia ancora in mia pacchetta. Non dovrebbero esserci i nemici qui. Eh, almeno non li vedo. Almeno non li vedo. Almeno non li vedo. Almeno non li vedo. Sì. Cerchiamo, cerchiamo le nostre armi. Cosa è? Oh, no. Dei rottami. Buono. Talmente qui. Come on, come on. Vabbiamoci qui per dopo. Oh, che messa. Por�, por�. Potrebbero venire in ogni momento. Come on, dove c'è la scena? Allora. Si, trovate. Potremmo con una scena? Oh, qui sei! Ho l'ho! Cuidate con questo, certo? Lo so. Aspetta. Aspetta. Sì. Ho la scena scena, Amicia. Finalmente! Questo... Oh! Cosa è? Un scena scena. Ma era valutato. Molto di cose in qui. Mi dovrei mantenere un'occhio. Potremmo essere più di quelli. Questi cestini. Allora. Potenziamo ancora la fionda. Ah, non possiamo. Materiali sufficienti. Mannaggia a me. Prendiamo allora questi materiali. Rottami. Scusa, sei. Un attrezzo. Ok, posso farlo. Posso potenziare la fionda ora. No! Rottami. Mancano ancora un po'. Beh, allora aspettiamo. Mancano cinque rottami, ragazzi. Ma che sfiga. Non è che magari sono qui, eh? Non è che magari tipo qui dietro ci sono dei rottami, eh? Eh? Giochino? Non mi dai dei rottami, eh? Niente, nessuno rottami. A questo punto ho già visto, mi sa qua, dove bisognava passare. Ok. Ovvero, attivando quello. Vai. E possiamo passare sopra. Andando di qui. Ah, qui troviamo messa solo un collezionabile, credo. Sì. E' un nuovo souvenir trovato. No. Dobbiamo uscire allora. No, non deve nemmeno uscire. Scusatemi, non ho capito cosa dobbiamo fare adesso. Allora, Lucas, tu hai idea di cosa dobbiamo fare. E niente, ragazzi, ho dovuto ricominciare la sessione perché ho verificato ed era buggato. Cioè, qui dovrebbe comparire un prompt per la porta. Ecco. Ed ora lo fa. Fantastico, a Plaghtary. Ecco, due bug che molto gravi che causano, praticamente, l'impossibilità di proseguire in... Boh, cinque minuti di gameplay. Certo. 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 Fai, Gioco. Grazie. Ok. Ok. Certo. 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 Cos'è un strillato? Come potremmo augurarsi? Non vedo nulla. Continua ad essere qualcosa. Noi! Ho trovato una carottola! Abbiamo accaduto, senza colpa della patroula! Dobbiamo порядco. Se sono ancora ancora. Beh, non lo so, questo luogo è un soldi. Potrebbe essere... Sì, ho trovato una carta. È facile. Allora mettiamo in posto. Ehi, dai! Forza, perché non vai? Speriamo qui? Ah no, ok, ha trovato il carrettino dietro Vai Oh, Lucas, bravo Sì, è molto più quieto Il messaggio in città deve essere spaventato per avere avvantaggi Sì, si stanno spaventando Ok, qui sotto non ci sono collezionabili, però possiamo tirare la manovella Vai Oh, questa cosa è pesante Hai mai usato qualcosa di questo prima? Ovviamente non Ah, che? Oh, c'è un conto di wait Sì, potrei tirare la manovella se vuoi Sì, deve essere un modo di ridurre quella linea Lucas, bisogno di guardare questo Sì Vai Ecco la cosa vedevo di... che si illuminava La linea è cortata, puoi lasciare Ok, portiamola alla porta, vai Forza, Lucas Bravo Dai, metti lo stupefaccio sulla punta, bravo It's set I think the crank on the side arms it I'm on it So, when do you open the doors? I won't Shoot through it We need friction to get the reaction What? But we don't even know if it will go through Too late for that Get ready I am At last, what took you so long Well, I... And we have completed anche il capítulo 3 Yeah Don't I know it's hard, but it has to be done It's been two days How can you stand there and do nothing? He doesn't deserve this I'm taking him out of this The carrier reaching the last threshold is a very rare event A critical one Of course, from now on, we need to isolate him The Order has special buildings You want to lock him away? Do you know what your brother is capable of? He will do much worse Hey, he's a child This is not his fault And the more you hurt him The more rats are out there And the more people die This is why we need to take him away His power will grow stronger As his days draw shorter Magister, please What do you mean? Amicia Hugo is condemned The last threshold means the death of the carrier No There must be a way Lucas managed Your friend bought you time When your brother reached the first threshold But this is something else There is no stopping it No elixir, no potion Wait There's an island He keeps talking about an island Maybe the macula is behind it It is a child fantasy So what's a child's fantasy doing on the wall of your laboratory? Yes What's out there? Poor girl You're running away from reality You must accept your brother's fate and your own And the fate of a protector is to do as the Order commands I don't give a damn about your order I don't know you I don't work for you Let me see him Hugo is tired, Amicia You can't enter his room in your state Let me pass Not until you've calmed down You said it yourself The macula feeds on his emotion We are going to the Aldous Quarters in Marseille as soon as possible I've got a boat and a man, Joseph, waiting at the harbour He needs to be warned As for me, I'm going to rest Let me know when you're ready to go Lucas Please go to the harbour and find this Joseph Yes, Magistra Amicia You should come Be careful Both of you Are you... All right? No Did you know about Hugo? I... I wanted to tell you, but... You should have We're talking about my brother, Lucas I didn't know Magistra Vaudan would tell you like this Lord, I can't Let's just keep going Fine E abbiamo concluso anche il capitolo 3 E con questo, anche questo video Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto Ricommentare ed iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glatural Sphere È tutto Al prossimo video E